Ma io onestamente hanno già parlato Gennaro e il mister degli episodi, non mi vorrei soffermare troppo sugli episodi arbitrali perché tanto a volte ti possono capitare a favore, a volte contro. Gli arbitri sono esseri umani quindi ci mancherebbe. Secondo me oggi abbiamo fatto un passo indietro rispetto al furore agonistico che abbiamo avuto contro lo Spezia che è quello che ci ha fatto fare la differenza domenica scorsa. Sapevamo che venivamo a incontrare una squadra che fa, oltre alle qualità dell'aggressività, un punto di forza importante e oggi l'abbiamo subito. Abbiamo perso molti duelli, molte seconde palle, qualche contrasto aereo e la partita è lì. Il risultato è un po' ampio perché poi abbiamo lasciato quattro punte e abbiamo dovuto per forza di cose rischiare. Però penso che ci voglia equilibrio. Bisogna analizzare la sconfitta in maniera lucida, come abbiamo sempre fatto, capire che quando c'è da fare questo salto di qualità ci vuole probabilmente qualche cosa in più, non so se a livello mentale, tecnico, tattico. Comunque ci lavoriamo perché un po' di tempo c'è ancora e andiamo avanti. Vincenzo, la gara di oggi ha detto principalmente due cose. Pescara fuori casa, eccezione fatta per Crotone, continua a fare fatica ad ottenere risultati positivi. E poi ne parlavamo anche prima, con le squadre, con le vostre dirette concorrenti, non sempre riuscite ad ottenere risultati positivi. Beh, in parte è vero perché lo dicono i fatti, però abbiamo fatto anche vittorie all'andata con Benevento, con Crotone quando ancora era considerata una grande di questo campionato, contro il Foggia all'andata quando era considerata una grande. Però fuori casa no. Fuori casa abbiamo, probabilmente giochiamo con un pizzico in meno di autostima e questo dobbiamo lavorarci perché se una squadra vuole provare a fare un qualcosa di importante, agganciare il posto più in alto nei play-off o addirittura qualcosa in più, evidentemente questo non basta. Ecco, hai detto play-off o qualcosa in più, il 4-1 di oggi, i risultati che arrivano dagli altri campi, secondo te chiudono la porta a quel qualcosa in più o c'è ancora tanto tempo? No, non chiudono niente, ma per un semplice motivo, perché l'ho già detto anche quando abbiamo fatto grandi vittorie, lo dico oggi dopo una brutta sconfitta, questo è un gruppo di persone importanti, un gruppo di giocatori, di uomini veri, che mi lasciano sereno sotto questo aspetto, nel senso che questo è un gruppo che sa reagire, è un gruppo che dà tutto, oggi abbiamo fatto una prestazione al di sotto, torniamo a casa a bocca asciutta, però ripeto, ho grande fiducia in questo gruppo e andiamo avanti. Il portiere del Pescara chiedo come mai ultimamente su questi tiri dalla bandierina delle formazioni avversarie arrivano troppi gol al passivo, c'è qualcosa da registrare, c'è qualcosa da rivedere o sono semplici distrazioni? La palla inattiva è una questione di attenzione, quindi è un dato di fatto che nelle ultime partite abbiamo rischiato, qualche volta ho fatto qualche buona parata, qualche volta abbiamo vinto i duelli e nell'ultimo periodo abbiamo perso qualche duello, abbiamo preso qualche gol importante, quindi non ne farei un caso, perché da qui, da oggi a inizio campionato ci saranno state duemila palle inattive, quindi se nell'ultimo periodo abbiamo concesso qualcosa in più, vuol dire che dobbiamo alzare un po' il livello dell'attenzione, ma abbiamo saltatori forti come li abbiamo in avanti e li possiamo avere anche in fase difensiva. L'ultima, Vincenzo, da capitano che eri oggi, che cosa ti senti di dire ai tifosi? Perché alla fine numerosissimi vi hanno chiamato sotto la curva e vi hanno fatto un bel coro dicendovi che non vi lasceranno mai. Mi sento di dire un grazie, ma da tutto quest'anno merito in parte appunto dei miei compagni di questa squadra che con questo atteggiamento ha fatto riavvicinare e affezionare un po' di più di nuovo le persone, i nostri tifosi, quindi sanno che stiamo dando tutto a prescindere da qualche brutta sconfitta o qualche risultato, qualche prestazione un po' meno bella. Quindi vi ringraziamo per tutti i chilometri che si fanno e speriamo di ritornare già da venerdì a regalargli una gioia. Vincenzo, cosa vi ha detto? Se vi ha detto qualcosa a pillone, perché prima diceva devo sbollire la rabbia. Era arrabbiato? Sì, era arrabbiato, ma il mister di solito a caldo non analizza mai. Aspettiamo domani mattina. Grazie.